moltissimo materiale non stenda dinamo iniziamo dagli errori in difesa del banco che sono costati caro ai ragazzi di coach pozzecco vediamo come di champierre vada ad aiutare troppo il compagno che non necessita di un aiuto lasciando troppo spazio a me ma per la tripla stesso errore con sorocas che va aiutare mezzo all'aria per evitare il taglio ma pierre si trova a metà strada e inganna il compagno che non sa più su chi rientrare tripla facile dal centro rimbalzi offensivi sanguinosi per la dinamo evans finisce su desirò e mclean sull'ala forte avversaria jamel però in quel momento deve sapere che mckintosh è in gas e non lasciarlo tirare facile dal palleggio mancano 5 secondi al termine dell'azione la dinamo ha un solo fallo di squadra troppo facile la penetrazione in mezzo all'area di mckintosh proprio perché la dinamo nelle sue regole ha proprio quello di collassare l'aria non concedere canestri facili guardate invece come aggressivo gerralls in questo caso sul palleggiatore e come cambia la difesa con la rubata di evans che va a segnare dall'altra parte evans però sbaglia all'inizio dell'azione quando si fa tagliare fuori e si stampa completamente sul blocco con pierre che non può cambiare perché in mezzo all'area sul lato debole per la tripla di mckintosh un'altra situazione dove c'è troppo aiuto non richiesto non viene letta la situazione da spissu che manda in sottonumero la difesa alla fine giorgevic si trova libero si arrabbia molto bilan su questa azione di uno contro uno da parte di van der vrust che va al ferro diretto secco contro gerralls bilan non fa in tempo ad aiutare atteggiamento passivo di gerralls e mcklin perché mancano solo 4 secondi per concludere l'azione in quel caso si cambia uomo sistematicamente o come minimo ci si mette ovviamente più aggressività doppio rimbalzo offensivo concesso da parte della difesa della dinamo e canestro che ti taglia le gambe con thompson che riesce andare a concludere due a rimbalzo contro uno vitali taglia fuori il suo ma né pierre né soprattutto gerralls riescono a fermare il giovane bushert che non viene tagliato fuori per il canestro che fa molto male alla difesa della dinamo stesso discorso di concentrazione in attacco dove né gerralls né mcklin si avvedono che stanno per scadere 24 secondi e muoiono praticamente dando la palla a sorokas che non può far altro che tirare quando i secondi sono già scaduti guardate invece lo spettacolo che sa offrire la dinamo quando condivide la palla che è uno dei suoi punti di forza parte il flipper con extra pass per la tripla di pierre nella seconda azione le penetrazioni costringono la difesa a collassare l'area la pazienza di evans serve a gerralls la tripla facile dal centro stesso discorso sulla rimessa da fondo dove la palla si muove velocissima e evans segna in grande ritmo bravissimo ancora bilan a capire che raddoppio sta arrivando e passare subito il pallone a vitali anticipando la difesa tripla coi piedi per terra per il numero 31 passiamo ora a parlare di regolamento evans graziato in quest'azione prende il rimbalzo offensivo ma lui non subisce il fallo ma lo commette guardate il braccio sinistro del numero 11 come taglia fuori l'avversario in gergo uking ovvero uncino il fallo e di evans a volte i giocatori non si rendono conto dei falli che commettono thompson rischia di rovinare la partita dei suoi commette il terzo proteste e tecnico per il quarto fallo ma come si vede dal replay il fallo è nettissimo con il lungo che abbassa completamente il braccio su bilan capitolo stoppate una stoppata è buona se la palla sta ancora salendo in parabola ascendente si là compie un gesto atletico clamoroso su bilan la stoppata è assolutamente buona perché la palla sta ancora salendo quando si può toccare la palla dopo un tiro libero quando la palla ha già toccato il ferro e si è staccata sorocas cerca il te pauto ovvero il tocco fuori per evitare il canestro ma tocca il ferro giusto con validare il tiro libero spissu prova il lancio lunghissimo per sorocas perché manca poco più di un secondo ma se la palla non viene toccata da nessuno il tempo non parte e ostenda soprattutto può rimettere la palla in gioco da dove spissu aveva rimesso rischiando anche il canestro beffa allo scadere del primo tempo parliamo di fischi che hanno condannato la dinamo in una partita con tanti errori arbitrali da una parte dall'altra due costano molto cari il primo è il quinto fallo di gentile che non tocca assolutamente buis sul tentativo allo scadere del terzo quarto è corretto dare dopo i due tiri liberi se l'arbitro fischia il fallo perché buis ha lasciato la palla prima che il tempo scadesse ma il fallo di gentile non era assolutamente da sanzionare quello grave è il fisco di fallo tecnico per simulazione o flopping di michele vitali come si vede dalle immagini angola con il braccio sinistro si aggancia già ad iniziazione a vitali e continua successivamente facendo perdere equilibrio al giocatore della dinamo il banco avrebbe avuto tratti liberi per tornare a meno due invece il tiro libro del tecnico e la bomba di mcintosh sul possesso successivo al tecnico chiudono la partita infine vi facciamo vedere una chiara azione di blocco cieco perché viene portato dal giocatore in attacco con il difensore che non vede ecco perché cieco vitali blocca thompson e permette a bilan di ricevere l'assist da spissu perché la difesa di ostenda non cambia uomo tempestivamente il centro croato si trova libero di segnare questo viene chiamato blocco cieco prestiti personali banco di sardegna trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi banco di sardegna gruppo viper non cambia usato Grazie a tutti. Grazie a tutti.